Mister, oggi partiamo raccontando un quarto di finale di playoff, quindi comunque siete arrivati qua dopo una bella stagione, dopo dei grandi ottavi di playoff, avete fatto una bella prestazione, oggi si è conclusa 1-1 in pareggio, siete passati in vantaggio, vi hanno raggiunto, secondo tempo avete giocato molto meglio voi e secondo lei che partita è stata? Sicuramente è stata una partita dove per i ragazzi è un qualcosa che come ottavo di finale ti prepara un po' a quelle che saranno poi, sono partite vere e quindi ti vanno un po' a preparare a quelle che saranno le partite degli anni prossimi, dove ci saranno magari delle promozioni, delle retrocessioni, degli spareggi, penso alla 16, alla 17, alla primavera, alla prima squadra, sono delle partite vere, quindi questa è un po' la prima considerazione, per quanto riguarda la partita di oggi, sicuramente è stata una partita equilibrata, loro sono una squadra con valori, noi l'abbiamo affrontata in modo razionale e mi sento di dire che abbiamo fatto una buona partita. Ora avete una settimana di tempo per preparare il ritorno, dovrete fare un gol in più di loro per passare il turno, come si prepara questa partita a un momento diciamo molto in là nella stagione, siamo quasi a fine stagione? Sicuramente la prepariamo con grande entusiasmo, adesso ho detto ai ragazzi che martedì serve un po' in questi due giorni a recuperare energie mentali e fisiche, tenerci dentro l'entusiasmo che ci ha contraddistinto in questo periodo di preparazione alla Fiorentina e al Milan e poi proviamo in qualche modo a trovare delle chiavi per provare a farne uno in più di loro, sapendo che serve crederci. Grazie 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 a tutti.